resident evil 4 ah si stavamo seguendo krauser se non erro avevamo si un obiettivo secondario trovare tre insetti nascosti sentiero della penitenza e rupe vicina ma qua c'è solo il sentiero comunque magari sarà più avanti vabbè ok vediamo il mercante l'avevamo già visto si ah qui ci abbiamo qualcuno vediamo se riusciamo a prenderne almeno uno alle spalle ok ok c'è uno l'abbiamo preso perfetto ok no a posto la sparo soldi a 43.000 ah si stavo risparmiando per il potenziamento credo pistola gli esplosivi 2 mhm quella madonna un po' di soldi di qua ah ecco vedi c'è un masso che blocca ok no qui niente camatta stordente anche di qui si e quindi per forza di qua dobbiamo andare però ci danno due dardi esplosivi non è che per caso saltano in aria boh usiamo il nostro ecco no l'abbiamo un po' sfondato non trovo oh alleluia mmm ci siamo no ok rubino addirittura attenzione eh vabbè mi sa che potevo beccarlo con i calci ma siamo troppo lontani ok quello si è trasformato questa vediamo due se sono tutte e tre però il terzo è un po' troppo lontano se sono tutte e tre magari è una granatina stordente ah però tre colpi e muoiono ok questo un in più ok a posto anche così ok no no vieni giù dai ok no solo due vedi ti dà una granata stordente vabbè così ne abbiamo quattro se non sbaglio ok qua c'è un altro masso a vedere eh però qui nasconde tesoro ah no ok c'è scendi pianta rossa si vedeva anche ah ok si sono ah ah ok sono delle presse va bene va bene aspetta mmm quindi qua torniamo indietro ok vai vai corri ok immaginavo aspetta che però voglio fare una cosa torniamo indietro eh vado la aspetta oh vai ah questo è passato maledetto ah ok era già morto vabbè no ok idolo immorale si può no non si può incastonare vabbè vabbè ok quindi qua visto dobbiamo andare di là ah madonna mi ha sfiorato preso preso morto ok vabbè non è difficilissimo evitarli ah qui però c'è tesoro ah eccolo lì oh ok smeraldo aspetta facciamo una cosa secondo me ci arriviamo visto che il mercante è qui allora vendi questo gli altri no aspettiamo un attimo 65.000 vedi giusti vai ecco a te come desideravo cerchio di non fare una brutta fine ah 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 perfetto non abbiamo riparato il coltello ma fa niente così ok ah ho visto che c'è qualcuno non è che mi lanciano giù qualcosa un barile qualcosa il classico no però mi stanno tutti aspettando che bello gli altri ok prego no acchiappa ha preso l'insetto oh madonna il tipo ah è vero che c'erano gli insetti da vedere da trovare vero ma dov'era ah ma è vero che diventavano pure ma sbaglio si sono fermati ah no ok uno l'ha preso lui aspetta eh guardiamo meglio allora perché questi potrebbero sfuggirmi in effetti oh no sono morto vabbè che mi ha salvato mi ha salvato in automatico prima ah no mi ha salvato qui ok quindi scusa fa vedere ah eccolo vedi ok vabbè allora aspetta un attimo prima di ammazzare i tizi appena detto facile evitarli ma ho calcolato male le misure eh vai 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 qua ok fatemi vedere in alto magari sarà in un posto secondo me non semplice da un po' nascosto no quello no andiamo qui mi sembra un luogo ideale per nascondere però magari va no non vedo nulla non mi sembra di vedere niente sto guardando prevalentemente in alto ma la cosa si può aspetta no non si può più interagire ok no qui non vedo niente eccolo lì l'ho trovato trovato ok eccolo vabbè si diciamo che se vai un po' di fretta così non si nota però se stai attento spicca un po' quindi qua due allora se sono qua due secondo me il terzo è più avanti aspetta che calcolo male così ok no qui no bravo il tipo ma oh aspetta ok si si allora to to ok ok vai e quello lì vediamo se eeeh cos'è ripetizione ha tre frecce no incoccate preso ok ci siamo vabbè aspettiamo che si avvicini un attimo non troppo però un pochino di più ecco ok forse è questa la ruppe parlava di ruppe non so e chi è un altro con lo scudo ok un altro con la plagas ok ah no è morto qui ah questo c'ha c'ha l'elmo aspetta muere muere coltello da caccia dov'è qua ho messo qui lo getto un po' pieno preso lagas oh cosa ho visto ecco ok due e tre questo corre ah che poi ti fai maale è stato sotto la gonna ok eh no no ok colpi pistola pesetas vedere lì dove c'è la torre dell'orologio vedere qui no non mi sembra di notare insetti ti sento ti sento ma eccolo preso però ce n'è uno dietro ma dove è sbucato questo ok pesetas a vedere ok abbiamo ammazzati tutti e tre a posto sangue sangue si ah c'era un barile esplosivo qui aspetta ci siamo vieni vieni qua vieni 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 ancora un ok non sei morto ok granata potente aspetta ah qui non c'è proprio niente che io controllo eh la fedeltà del suo servo Ramon Ashley Leon che stolto signor Kennedy aver ricevuto in dono la grazia di Lord Sadler eppure non c'è proprio niente perfetto tienil'occupato ancora un po' ok segui Krauser adesso andiamo sull'isola ci evitiamo ovviamente una boss fight ma ma se adesso abbiamo ucciso praticamente il nostro inseguitore oh che è che ammazziamo nessun altro penso di boss che Krauser ci pensa Leon ma lui a parte averci salvato cosa fa qua il cliente va soddisfatto ok là c'è un tesoro ma chi ha da scrivere approfittiamone approfittiamone dov'è che sei eccolo è lui ancora vivo se aspetta però è infatti no ok oh no no non ho fatto in tempo ci siamo ce l'ho premuto ma è troppo tardi un millesimo di secondo dopo posto ah madonna non l'ho visto ah non l'ho visto mamma mia no e dai ah oh ah dai maledetta pensavo che non c'era nessuno ah 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 già che c'è il tesoro ho detto prima e poi orologio da taschino ma non penso penso proprio infatti non si può incastonarci nulla pochi colpi eh qua c'è altro no macchina da scrivere molo eeeh abbiamo fatto un rifornimento praticamente qua ecco carichiamo anche questo ah pensavo che ero una bestia ok che ringhia no è il motoscafo ok merda eh chiave della barca leon cazzo ti serve qualcosa capitolo terminato vabbè appena salvato ma io risalverei ma sì ok ok Sembra che tu abbia qualcosa da dirmi, Leon Ho una cosa da chiederti Ma dubito risponderei chiaramente Raccoon City Sai, dopo l'incidente Il mondo è cambiato Cerchi di salvare una persona e ne muoiono cento Sono cambiato anch'io Tu, Leon S. Kennedy Non sei cambiato Pensi di averlo fatto Ecco la mia domanda Tu sei cambiata, Ada O stai di nuovo cercando di usarmi? Secondo te Ci siamo Pensi troppo, tesoro Ci vediamo Finisce sempre così Tutte e due direi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Non ancora. E adesso chi è il suo obiettivo? Io o Sadler? Dipende tutto da te. Il piano è cambiato. Certo, sei libera di rifiutare. La pistola non mi spaventa. Interessante. Ok, ci sto. Ma la tariffa aumenta. Una scelta saggia. Ti mando le nuove coordinate. E ricordati, non mi piace per nulla. Aspettare, lo so. Se non vuoi aspettare... Fatelo da solo il lavoro. Dov'è? A isola. Ordine A008. Collega il dispositivo di disabilitazione al terminale principale nell'edificio di trasmissione. Vabbè. Ok, radio. Ok. Capitolo 6. Campamento. Ah, i tesori. Ok. Ah, guarda. Si vedeva... abbastanza. Aspetta. Ok. Vediamo qua. Granata. Munizioni di fucile. Munizioni di pistola. Poi c'è una scala. Ah, scusa. Vedere. Un'altra via o... Ah, se forse ci si ricollega. Non so. Qui magari... Qualcosa c'è. Ehm... Palligetta pina. E mo? Mo? Sono davvero... Eh, si. Sono davvero pieno. Ehm, ma questo lo devo ottenere perché c'è il biosensore. Si sa mai. Si sa mai. Ehm... Ehm... Però... Vabbè che sono solo tre copie pistola, eh. Non è che sia... Una grave perdita. Ma questo sembrava un documento. Colvere da sparo. Lacrima viola. Parte col di pistola. No, ma non c'è nient'altro. Aspetta. Non mi ha né sentito né visto. Ok. Ok. Quindi di qua... Ok, torniamo giù. Eh, infatti. Ah, l'ambra. Oh, non mi ricordo. Non può prenderla qui. Guarda quanta ce n'è. Oh, non mi ricordo se era esattamente amaro. Aspetta. Ecco. Eh... Non cadi giù. Ok. Ah. Uh. Quello si trascina. Questo è caduto. Aia. Ah, ma se... Boh. Si è sciolto. Anche a te ti devo prendere alla gamba. Ah, ma quindi è come... Ah, ma quindi è come fossi morto. Solo che ci metti tanto. Allora, scusate, ma... Eh, corro un attimo indietro. Visto che adesso ho usato il colpo di pistola. E prendo questi. Ecco. Ecco, si è sciolto. Bene. Qui c'è un tesoro. Minerale di cristallo. Qua. Un grosso pezzo di minerale di cristallo. Ok. Ok. Qui c'è una porta. Aspetta, si dà un po' poco, però. Tutto buio. Guarda, sparo. Minizioni di pistola. Basta. Fa vedere. Ah, no, vedi, c'è. Vedi, deposito di ambra. Prendila da lì, l'ambra. Piantina gialla. Ok. Ok. Qua. C'è un tesoro. C'è un tesoro. Ok. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Oh, salve. Chi è il prossimo? Ok. Mercante. Dovrebbe trovarsi lì. Non sarà facile arrivarci. Aspetta che... Prendo roba. Ah, pure... Ah, sono P. Aspetta. Prima vediamo di... Acquista. Ganata potente. Prima vendiamo. Lacrima. Qui sono sette rubini. Ok. Scambia. Ne ho dieci. Prima di strappare via lo scudo da alcuni nemici usando il lanciarampino. Mmm. Perché sto pensando... E non mi ricordo se eventualmente c'è un'ulteriore valigetta. Perché se mi prendo questo ciondolo... ci sono cose che i soldi non possono comprare. Il... Il fucile a pompa non ha più senso di esistere. Anche se fa i suoi piccoli danni. Però abbiamo la pistola che fa danno, la carabina che fa danno, la balestra, e poi non avendo più fucile a pompa come forse avevo già detto non troveremo più le munizioni del fucile a pompa e quindi comunque diciamo la... il ritrovamento di munizioni si concentrerà sulle armi che abbiamo. Quindi non penso avremo problemi. Io quasi quasi lo prenderei. Quanto è che costa? 5. Questo lo possiamo vendere. non so se sbuccherà fuori un altro biglietto modifica speciale ma... a dire di no. Piccola chiave no, non la voglio prendere. Fa niente. Lasceremo indietro qualche tesoro ma... non mi va di usare i cosi, gli spinelli per quel... per le piccole chiave anche se in passato forse uno o due le ho prese. Allora, io mi prenderei il ciondolo dai. Ok. Attacca il ciondolo alla speciale la varigetta per insegnare di strappare via gli scudi da alcuni nemici. Strappando via lo scudo a posto non abbiamo più problemi dopo. E... 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 Con 5... Io prenderei questo il bracciale suntuoso così ci incastoniamo roba. Basta. E... Aspetta un attimo. Non c'è la... acqua. Personalizza la varigetta. Ecco, avevo già questo che... Per aiutare i colpi criti con attacco a corpo a corpo il 20%. Mettiamo... Così... Ah, al centro c'è l'altro. Facciamo sinistra e destra. Ecco. Così, perfetto. E... fa vedere... Beh, ho 7 ma... Dai, magari rinunciamo al fucile a canne moe. Tanto questo l'avevo preso principalmente solo per gli scudi. Così mi si libera tutto sto spazio. E... Le mie munizioni saranno principalmente 2 più quelle esplosive. Quindi direi che va bene. Sì. Quindi vendo... Aspetta, prima... Prima... Ah, solo 2? Dai, solo 2. Castona gemme... 1 2 20.009 Se metto... Ah, 19 2 Se no... Ok. Così, 29.009 Ok. Allora, vendiamo questo. Munizioni fucile E... Fucile a canne mozze Ok. Così Potenzia Allora, ripariamo coltello Potenziamo Eh, la potenza La potenza della carabina Come desideravi E... E... Con 20.000 Non so se tenerli O magari aumentiamo capacità caricatore Dai... 6.000 8.000 Va bene, dai Ok Ok Che posso fare Cercherò di procurarmi qualsiasi cosa Oh, vedi che si è liberato un sacco di spazio E a sto punto facciamo così No Ho Un attimo in ordine Così 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 Qui le munizioni Ok Qua le bombe No Facciamo così Un sacco di Ganati estordenti Dove serviranno Qua le bombe Così Ho un sacco di polvere da sparo Magari facciamo munizioni carabina che fanno sempre comodo Ok Uno Uno solo Ok Qua Mettiamo questo Così To Ah va che ha un'altra granata potente Così Ok Qua abbiamo il birino Ok Calcio Ok Questa qui Oh E il coltello Mettilo qua E qua le cure Oh A posto Qui ci prendiamo sta piantina Quindi abbiamo fucile Allora tanto vale mettere la segna Eh Così Poi il resto Sì va bene Granata Magari Granata potente La mettiamo di qua dai Ok Qui carichiamo Ok Fino a 12 colpi Adesso abbiamo Perfetto La piantina No No Ho sbagliato Ma Volevo spostarla Eh Ho sbagliato Vabbè Abbiamo la doppia Come fosse una cura intera Questa Praticamente Va bene Vabbè Salviamo Eeeh Così Ok Boh Proseguiamo proseguiamo qui Qua immaginavo Tipo un'arena Ah ma questo qua è quello Uh Che non mi ha preso Aspetta Qua ci abbiamo un po' di barili un po' di barili Ok 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 Via Fusate che ce n'è un altro Qua Eh ma Aspetta Ok Non so se Ah no Schiva Facciamo il giro Magari qui una granatina Attenzione Oh Eh dovete avvicinarvi tutti però Ok Dai dimmi che è morto Oddio Un altro Aiuto No Aspetta No Eh però Mi zega Beh Guarda bot Ce n'è un altro Oh Ah ma è quello di prima è ancora lì Aspetta eh prendiamo tempo Però tutti i soldi mi danno Munizioni Via Munizioni Oh ma vuoi gentilmente Eh Oh Ok Aspetta No È rimasto solo lui Ok Beh abbiamo sfruttato bene le granate Zaffiro Cos'altro Pesetas Fa vedere Hai visto C'è un rubino Ok Dov'è il rubino? Qui Ok c'è un tesoro Aspetta Ma è No È qua Sì Ah eccolo Terillo Rosso Ah qui Ci abbiamo Scassa Ok Qui si va Su Ma di qua È solo Per Sì Solo Per scappare Ok Va bene No Non scendere Pianta Pianta rossa Ok Così Ah C'è rimasta Solo una Ganata potente Le altre Sono tutte Stordenti Va bene Qui Sembrava Importante Qui Niente Guardiamo Che ha Preso Tutto Scusa il ritardo Hai portato la medicina in tempo Ce la fai Dov'è Luis? Si è preoccupato per te Fino alla fine Andiamo Non c'è molto tempo Facciamola finita Per Luis Oh Leon È velocissimo Ada mi ricevi? C'è un laboratorio dove rimuovere il palassita Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna E io cercherei lì Ha dall'enciclopedia Lieta di aiutare? Sei in debito? Cerca di non morire Qui? Chiuso Chiuso Non si apre Oh C'è già il mercante Come mai? Ma lì non si può salire No Su palco Edificio 1 Ricorda che sparare fa rima con giocare straniera Aspetta Tu hai un Scarabè alla moda Si può dire che gli scarabè ornamentali sono l'ultimo grido Soprattutto se sfoggiati in coppia Potresti trovarne un paio? Uno dovrebbe essere nascosto nella stanza delle dissezioni Presso l'edificio 1 Mentre l'altro è stato rubato Sono certo che trovarli sarà un gioco da ragazzi 10 spinelli Ah quindi uno Ce l'ha un nemico E l'altro invece Ok Tu non hai nulla di nuovo Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita straniera No dov'è coltello Ah no coltello è già Che è a posto Alla prossima allora Mi salvare Ok 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 Grazie.